115.000 euro per restaurare il presepe settecentesco di Acireale, nuovo intervento per la grotta e tutti i personaggi presenti all'interno della chiesetta di Santa Maria della Neve grazie alla regione siciliana. I lavori interesseranno sia l'ambiente che le 35 statue, a grandezza naturale, con il corpo in legno e le teste in cera, raffiguranti la natività e i pastori. A queste si aggiungono quelle degli otto animali che completano la rappresentazione. A causa del tempo, diverse sono le criticità riscontrate, per questo è necessario avviare un intervento di recupero, suggellato in uno protocollo d'intesa sottoscritto tra l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e la diocesi acese. E' un incoraggiamento a proseguire anche nelle iniziative che in questi anni sono state portate avanti dall'associazione presepe settecentesco, dalla chiesa stessa della grotta. E quindi andiamo avanti con fiducia perché questo luogo deve diventare un luogo vivo, un luogo che porta un messaggio di speranza, di fiducia e di pace. A supervisionare i lavori saranno gli uffici della soprintendenza di Catania, attenti all'opera dal 1979, anno in cui, dopo un secondo restauro, hanno chiesto di non smontare il presepe, soddisfatti i rappresentanti dell'omonima associazione che, da tempo, si occupano della cura e della fruizione del sito definito di interesse storico-artistico. Noi siamo particolarmente felici di aver ricevuto questo finanziamento perché lo scopo proprio dell'associazione presepe settecentesco in questi sei anni è stata quella di far accendere i riflettori sul presepe per raccogliere fondi da destinare al restauro dei pastori, alla cura e al mantenimento di questo posto. E a farsi promotore dell'intervento di restauro al presepe settecentesco di Acireale è stato il deputato regionale Nicola D'Agostino di Forza Italia, che andiamo ad ascoltare. Abbiamo la necessità di preservare le nostre ricchezze più importanti. Il presepe settecentesco per Acireale è una tradizione ma è anche un tesoro che va conservato, va rivalutato e va messo a disposizione di una fruizione turistica che c'è. Dopo 40 anni la regione siciliana, su nostra richiesta, ha fatto quello che occorreva fare in questi giorni. C'è un investimento importante di 115 mila euro per rimettere in sesto tutti i pastori. Già alcuni di questi erano stati ristrutturati grazie alla benemerenza di alcuni cittadini privati. Adesso con l'intervento pubblico riusciamo a dare una prospettiva e un futuro al presepe settecentesco di Acireale.